Ust Asana Sedetevi sulle ginocchia con le gambe piegate, alzatevi sulle ginocchia e allungandovi indietro afferrate le gambe dietro le caviglie, alquate il corpo al massimo, respirate velocemente e profondamente, continuate a respirare profondamente e rimanete in questa posizione il più a lungo possibile. Questa posizione allunga i muscoli addominali rendendoli più forti e rinforza le articolazioni delle ginocchia e i muscoli delle cosce. Grazie Grazie Grazie